Un saluto ai nostri telespettatori siciliani con Sebi Roccaro, presidente dell'associazione LES, libri emittenti siciliane. Parliamo di questo importante DDL, editoria siciliana, di cui Sebi e Roccaro si batte da tempo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che martedì scorso c'è stata una seduta a fiume in aula a Lars per esaminare le DDL editorie. Quindi io chiedo subito al nostro Sebi e Roccaro di raccontarci cosa è successo. Sì, grazie. In martedì scorso, anzi meglio martedì e mercoledì, si è discusso il DDL editoria numero 304. Un DDL che l'associazione LES, libri emittenti siciliane, ha fortemente voluto e chiesto al governo regionale, sperando appunto che l'editoria siciliana in qualche modo si potesse risollevare grazie all'approvazione di questo DDL. Mi pare però che ci siano dei problemi abbastanza rilevanti perché per quanto riguarda il DDL stesso sono stati approvati ad esempio alcuni articoli che ritengo debbono essere invece rivisti ed esaminati. E parlo dell'articolo 6, contributo in conto interesse e prestazioni di garanzia per investimenti e tipologie di interventi. Insomma, sono due articoli che in pratica, in parole povere, riguarderebbero quelle televisioni che hanno effettuato un mutuo per l'acquisto per esempio delle attrezzature per il digitale. Io su questo argomento penso che ci siano ben pochi emittenti che hanno addirittura fatto il mutuo. Il mutuo l'ha potuto fare forse uno o due editori in Sicilia, gli altri abbiamo fatto piccoli prestiti o medi prestiti perché appunto le banche alle piccole e medie imprese, come ben sapete, non concedono prestiti o mutui. Quindi su questo argomento c'è da rivedere tutto perché sono sicuro che questi due articoli debbono essere rivisti e addirittura soppressi. Poi abbiamo un articolo che secondo me era fondamentale e che riguarda appunto l'articolo 6 in modo particolare le provvidenze segnalate e assegnate mediante bandi annuali e graduatorie ad evidenza pubblica e secondo le modalità di cui è l'articolo 16 della legge del 23 dicembre 2000 e successive modifiche di integrazioni, il governo Crocetta ha presentato un emendamento per addirittura sopprimere questo comma e quindi impedire alle piccole e medie imprese e alle tv locali di poter ottenere un contributo annuo che ci permette, come ben sapete, vista la crisi delle radio e delle tv, di vivere. Perché noi qui abbiamo una situazione disastrosa in tutte le aziende editoriali con diversi editori quasi al fallimento. Questo sta a significare che se il DDL non viene rivisto, addirittura mi si toglie un emendamento che era stato già approvato in commissione grazie all'intervento della nostra associazione e che ora viene tolto, mi pare veramente assurdo. Io vorrei anche dire un'altra cosa che riguarda sempre questo nostro articolo o meglio l'articolo 7, contributi per il consolidamento delle passività onerose. Alle imprese di informazione sono concessi contributi in conto e interessi su finanziamenti per il consolidamento di passività onerose in essere alla data del 31 dicembre, poi questa data pare verrà spostata a giugno comunque, previa accensione di mutui e io ho fatto aggiungere tramite un emendamento presentato su nostra proposta da alcuni deputati o prestiti di durata almeno quinquennale. Ripeto, il contributo di 200 mila euro iniziale a questo articolo che come ben sapete è ben poco, non aiuterebbe molto, aiuterebbe invece da un contributo solido a tutte le tv locali, cioè a tutte e cento le tv locali. Se proprio vogliamo lasciare questo articolo, quantomeno mettere o indicare proprio il gettito uguale per tutte le tv locali affinché queste possano contribuire fondamentalmente affinché la politica possa contribuire fondamentalmente all'aiuto concreto alle tv locali che sono in grossa difficoltà. E' stato lanciato anche un appello da parte di diverse forze politiche che intendono andare avanti con questo DDL e approvarlo in tempi molto brevi, però è chiaro che se c'è da una parte la voglia di farlo c'è dall'altra anche, mi auguro, l'opportunità, spero, di affrontare il tema del pluralismo e dell'informazione ma soprattutto della possibilità di accedere a questa legge da parte di tutte le tv e le radio locali. Non si può pensare che una legge o un disegno di legge possa favorire uno o due editori perché a questo gioco io come presidente di Libere Emittenti Siciliane che è rappresentante di quasi 100 televisioni in Sicilia non lo permetterò e questo lo dico alla politica perché non è possibile che dopo un anno di sforzo mio personale dell'associazione, di tutti gli editori che si sono abbattuti per cercare di portare avanti questo DDL, venga così fatto in modo che quest'ultimo possa in qualche modo essere, tra virgolette, anche punitivo per le piccole e medie imprese. Ecco, alla luce di quanto lei ha detto finora, Sebi Roccaro si evincono quindi forti dubbi da parte sua sul DDL e ricordiamo che il DDL editoria siciliana se ne parlerà nuovamente martedì prossimo per l'approvazione finale, alla luce di questo, qual è il suo ulteriore appello? Appello è intanto, dico alle forze politiche, di sopprimere quegli articoli che non devono assolutamente favorire alcuno se non tutti invece le TV presenti nel territorio tutte 104 le TV presenti nel territorio C'è l'articolo 11 che è messo già in discussione perché riguardava appunto la possibilità per i soggetti che debbono ottenere con gare pubbliche degli appalti per la pubblicità e la pubblicazione di bandi su quotidiane a diffusione nazionale e su quotidiane a diffusione locali sono state escluse le TV locali e questo non è possibile altro tema su cui io mi sono battuto c'è un emendamento perché se si devono pubblicare bandi si devono pubblicare sia sui giornali che sulle televisioni se qualcuno, qualche deputato mi ha detto in questi giorni ma come lo pubblichi in televisione? Lo pubblichiamo con delle stampe ho addirittura dei veri e propri crawl televisivi che possono permettere a tutti di poter visualizzare i bandi io credo che la possibilità per dare una mano alle TV locali c'è io voglio fare appello alle forze politiche affinché prevalga il senso di responsabilità e che martedì e mercoledì prossimi si possa approvare il DDL con grande serenità e senza favoritismi io spero veramente che questo mio appello giunga al cuore di tutti i deputati e sono convinto che l'Ars metterà fuori un DDL corretto e pluralistico soprattutto in conclusione voglio dire che l'associazione LES lunedì mattina spedirà una lettera al presidente del consiglio dei ministri l'onorevole Letta perché visto che non arriva dall'associazione nazionale lo faremo arrivare dall'associazione regionale che è appunto la nostra associazione ed è questa la mia richiesta che farò al presidente Letta che quel benedetto canone Rai visto che le TV locali fanno servizio pubblico ogni giorno 24 ore su 24 con sforzi allucinanti il canone Rai dal prossimo anno possa essere suddiviso metà l'azienda pubblica metà le TV e le reti locali questa è una nostra iniziativa che già la prossima settimana avvieremo attraverso anche i nostri mezzi di stampa e non solo anche attraverso questa lettera che spedirò al presidente Letta in conclusione proprio per chiudere questo mio intervento voglio dire a tutti i miei colleghi editori che lo sforzo deve essere massimo in questi giorni e che le TV locali devono essere unite più che mai perché non si può permettere alla politica dopo un anno di sacrifici e di portare avanti insomma che abbiamo portato avanti un disegno di legge che è alla portata di tutti di tutte e cento e quattro le TV che possa invece favorire uno, due o al massimo tre editori in Sicilia non lo permetteremo sappiatelo che non lo permetteremo Bene, grazie a Sebi Roccaro presidente dell'associazione LES Libri Emittenti Siciliane per il suo monito riguardo il DDL Editoria Siciliana ma non solo e grazie anche ai nostri telespettatori Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti